Il gota dell'Unione delle Maestranze di Trapani, Presidente, Vicepresidente e Segretario dell'Unione delle Maestranze. Oggi purtroppo è ufficiale la processione dei misteri. Nella data prevista salta, Presidente Lantillo. Era già da un po' di tempo che si pensava ad annullare la processione dei misteri. Quindi, logicamente, questa processione viene gestita dall'Unione delle Maestranze e gestisce circa 3.500 persone. Più il popolo trapanese che crede a questa processione. E quindi, siccome riteniamo che ci sono cose più importanti alla fine, e la cosa più importante è la salute pubblica, la salute di tutti noi, abbiamo rimandato questa comunicazione ad oggi, perché ancora c'è qualcuno che ci crede, che possa avvenire il miracolo. Speriamo che possa essere veramente così. Di giorno in giorno, tutte le volte che ascoltiamo l'informazione giornaliera, ci dicono che i numeri aumentano. E siamo veramente dispiaciuti. Con il rammarico stiamo dando questa notizia che ci rattrista un po' tutti. Ma dobbiamo pensare alla salute. E' un ricordo particolare a tutte quelle persone che non ce l'hanno fatta. Vicepresidente D'Aleo, si ipotizza, non so se nel tavolo delle discussioni, lo spostamento, magari tarda primavera o in estate, della processione? Ancora questi programmi non li abbiamo, perché siamo stati molto prudenti a emanare questo comunicato, perché era necessario essere prudenti e vedere le cosiddette curve che ci allarmano ogni giorno di più. Perciò i trapanesi hanno dimostrato grande sensibilità e hanno dimostrato nello stesso tempo vicinanza alla processione e a tutti quelli che stanno organizzando e che hanno organizzato per un anno questa processione. Nostro malgrado, abbiamo preso un po' di tempo, ma era, come posso dire, necessario condividere con le autorità preposte questo rinvio. E naturalmente sarà necessario poi risederci con le autorità preposte per fare una programmazione e recuperare questo anno che per noi è stato un anno doloroso. E spero che rimanga solamente una memoria e che non ci siano dei momenti un po' più tristi che dall'altro lato si vedono e si risentono e rimbombano nei nostri cuori. Grazie. Segretario Antonio Garia, è necessario ancora di più, anche da parte vostra, un appello alla cittadinanza? Sì, l'appello è quello che rimbomba su tutti i mezzi di comunicazione in questi giorni. Anche noi, fatto questo doveroso passaggio, ritorniamo a casa e invitiamo tutta la cittadinanza, le maestranze a noi vicine, ma tutta la cittadinanza, a restare a casa in questi giorni. Mi permetto poi di ricordare a tutti che, d'accordo con il Vescovo e con il Rettore della Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio, nel pomeriggio di oggi, alle 17.30, ci sarà una diretta web dalla Chiesa del Purgatorio e il nostro Rettore ufficierà la Santa Messa. Quindi, un motivo in più per unirci tutti in preghiera, stare vicini e vi rinnovo l'invito a rimanere a casa. Noi restiamo a casa. Grazie.